Musica Cari amici benvenuti, benvenuti alla nostra pagina Youtube, benvenuti a Radio Palcoscenico e sulla rivista Campo dei Fiori. Mi trovo al Teatro Petrolini dove, avrete visto sicuramente nei giorni passati, si è svolta la conferenza stampa del Roma Comic Off all'ottava edizione. Accanto a me il direttore artistico, nonché il papà, insieme a Roberto D'Alessandro del Roma Comic Off, Paolo Gatti. Ciao Paolo. Ciao a tutti gli ascoltatori e siamo qui per l'ottava edizione di questo Comic Off. In realtà gli anni sono dieci, però diciamo che comunque si è stata un'interruzione. Però devo dire che quest'anno ha avuto una felice risposta, più degli altri anni. Diciamo che quest'anno si parla oltre che comic anche di cose drammatiche, insomma si è variato un po'. Si è variato un po', si c'è una sezione drammatica, una sezione comica per dare, visto che il teatro chiaramente ha anche questo tipo di sfaccettature, cioè diciamo del genere, insomma, capite? Quindi è stato giusto aprire un po' più, diciamo, la proposta artistica. Ma come è nata questa cosa dieci anni fa qui? È stata un'idea tua e di Roberto? Devo dire, l'idea è stata di Roberto, che mi ha chiamato dicendo che ne pensi se facciamo un mini festival come fosse una cittadella di testaccio. Io lì per lì ho detto ma fammici pensare. Poi è successo che io ero molto impegnato l'estate, l'estate romana, devo dire che grazie al Comune di Roma mi ha completamente cassato, quindi mi ha lasciato libero dopo 34 anni. Allora ho chiamato Roberto e ho detto senti, visto che le cose sono cambiate, magari è un po' più di tempo, dico facciamolo, facciamo questa prova, vediamo come va. È iniziata appunto il comic-off di testaccio, poi si è un po' allargato. Beh, negli anni siete cresciuti tanto, insomma. Sì, no, si è allargato come teatro, nel senso che c'è iniziato De Servi, Teatro Marconi, Tordinona, diciamo che abbiamo ampliato un po' il quartiere, è diventato un po' più cittadino quasi, insomma, almeno c'è un centro storico. Quindi adesso sarà fino al 22, dopodiché ci saranno le premiazioni. Sì, le premiazioni, poi c'è il premio, devo dire che fortunatamente, non so, il Petrolini porta fortuna, perché mi pare che su otto edizioni, almeno 4 o 5, l'hanno vinta le compagnie che stavano qui da me. Anzi, devo dire che ce n'è una che ormai è consolidata, che è il Gran Guignol di Milan, che praticamente sono sei anni che viene qui, facendo sempre i Saurito, e quest'anno c'è anche appunto un loro spettacolo stupendo a metà di ottobre. Quindi certe compagnie non solo hanno vinto, ma si sono proprio consolidate anche sul territorio testaccino. Senti, stando qui in questo teatro storico a testaccio, non possiamo non parlare proprio del teatro. Anche questa è stata una tua idea, questa è una tua creatura. Sì, è una creatura insieme al mio mentore, a Fiorenzo Fiorentini, che praticamente è stato colui che ha ritirato fuori la figura di Ettore Petrolini, che purtroppo era un pochettino messa da parte, io parlo degli anni 60. E con Fiorenzo iniziamo in via Gessi, in un altro spazio che adesso si chiama Testaccio, gli diedo io il nome prima di lasciarlo, ho tirato a testaccio. E poi, grazie anche all'aiuto di un politico sensibile come il signo di Roma di Francesco Rutelli, ci aiutò a trovare una sede più consona. E quindi il teatro Petrolini dal 98 ha aperto i battenti a testaccio. Devo dire che abbiamo tantissime compagnie, siamo arrivati anche a punta di 90 compagnie, perché chiaramente non essendo progetti commerciali hanno una durata un po' più ristretta, tre, quattro giorni, una settimana, c'è chi riesce ad arrivare anche a due settimane. Comunque diciamo che non ci lamentiamo perché abbiamo un parterzo notevole. Senti, da anni comunque tu hai anche un tuo spettacolo musicale. Un spettacolo che si chiama a me è un progetto Melodie Romane, praticamente continuando appunto la linea tracciata da un grande culturale della romanità, che era Fiorenzo Fiorentini, ho continuato questo messaggio, perché ormai diciamo che è una missione più che un messaggio, legato alla tradizione popolare e alla canzone romana. Io, fatto conservatorio, vengo dalla cultura classica, però mi è piaciuto in qualche modo rimodulare o rivisitare queste melodie antiche rendendole ancora più gradevoli, spero. E quindi dopo anche tanti viaggi che faccio nel mondo, sempre portando questa canzone romana, ogni tanto ho ripreso, dopo questa maledetta pandemia, a fare dei concerti anche qua. Anzi adesso il 6 ottobre ci sarà Ottobrata Romana, dedicata appunto a aneddoti, curiosità, proverbi, sempre della tradizione popolare e canzoni. Con me ci sarà anche Sharon Alessandri, che è un'ottima attrice e cantante, che condivide con me questa parte artistica. Segnatevelo, mi raccomando. Il 6 ottobre, se non venite, vi caccio. Allora, una stagione variegata, tu dai molto spazio anche ai giovani in questo teatro. Molto, moltissimo, anche perché io ritengo che questi spazi sono dei veri laboratori, sono delle palestre. Soltanto l'insensibilità burocratica e stupida della burocrazia non ammette che i teatri off possono essere questo. Nel senso, si dice, siete privati e quindi va a cantare e va a suonare voi. Non è giusto perché invece noi diamo spazi ai giovani che non possono, per ragioni anche economiche, potersi permettere teatri commerciali grandi. E quindi vengono da noi facendo delle proposte e poi un domani andranno chiaramente in altre sedi, in altre situazioni magari più grandi. Però ecco, noi siamo utili, anzi c'è una grande sinergia fra il teatro piccolo e il teatro grande. Bene, allora abbiamo parlato di Roma Comic Off, abbiamo parlato del teatro Petrolini, abbiamo avuto l'onore di stare qui con Paolo Gatti perché è difficile intervistarlo, perché è talmente impegnato tutto il giorno che veramente siamo riusciti a trovare... Sì, ci ragiono, insomma. È vero. Ma, per esempio, va a messo all'angolo. Esatto, l'ho bloccato qui. Un piacere, per carità, un piacere. Io ringrazio e saluto il direttore artistico del teatro Petrolini, Paolo Gatti. Grazie a voi e Comic Off, dal 10 settembre al 22 settembre siamo qua. E poi c'è la stagione teatrale nostra, insieme anche a tanti teatri, belli teatri romani. Ciao. Vi aspetto con le prossime interviste da Sandra Lessi. Buon proseguimento.